Il XII secolo, Federico I di Hohenstaufen, 1120 circa, 1120, 1122 o 1125 secondo altri, 1190, prende il settantennio centrale del XII secolo. È un grande secolo, è un secolo fra l'altro favorito da un miglioramento climatico, oggi miglioramenti climatici ci fanno paura, ma nel XII secolo erano i benvenuti, si usciva da un'epoca piuttosto fredda, i secoli dal VI, VII fino all'Indicesimo erano stati secoli abbastanza rigidi, dopodiché il clima era cominciato a migliorare, quindi migliorando il clima naturalmente i ghiaccio e le calotte polari si sciolgono e quindi per esempio i vichinghi possono cominciare a navigare e siccome avevano draccar, navi a forma di drago marino, di legno da bete, gli iceberg ai vichinghi non gli facevano nulla, gli iceberg hanno affondato il Titanic che era d'acciaio, ma a un barcone di legno da bete non fanno niente, il barcone batte e rimbalza, dopodiché i vichinghi naturalmente sono venuti anche mediterranei, l'hanno anche conquistato, però sono le ultime invasioni barbariche, poi comincia un momento invece in cui l'Europa si riorganizza, si riorganizza grazie a due poteri centrali, non bisogna mai dimenticare che tutto il Medioevo è dominato da una grande presenza imperiale romana a Oriente, l'impero di Oriente, l'impero di Costantinopoli che a tutti gli effetti è la prosecuzione dell'impero romano, senza soluzioni di continuità, l'impero romano a Oriente non è mai caduto, ci vorranno i turchi nel 1453 per farlo cadere, in Occidente invece ci sono state, come tutti sanno, le invasioni barbariche, un lungo momento di depressione, era anche depressione climatica, perché quando fa freddo le annate agricole vanno male, quando le annate agricole vanno male la gente muore, muore di fame, è denutrita, muoiono soprattutto i bambini e quelli molto anziani, il che vuol dire che c'è un calo demografico, il calo demografico comporta una stasi anche dal punto di vista economico, sociale, etc. Ecco, il secolo XII è il secolo in cui il movimento ascensionale dell'Europa riprende in pieno, si fondano nuove città, le città vecchie riprendono a espandersi, l'Italia è un luogo in cui fino all'età greca o etrusca o romana, le città erano numerosissime, ma durante l'alto medioevo, nei secoli prima del 1000 sicuramente c'era stata una battuta d'arresto, ora invece le città riprendono il loro cammino ascensionale, quelle sul mare creano nuovi cantieri, si trasformano in città marinare o repubbliche marinare, quindi Genova, Venezia, Pisa, Amalfi, si conquista il Mediterraneo, si contrasta quindi con l'Islam, l'Islam che era soprattutto l'Islam del grande califato di Baghdad, che però era già diviso in regni, fra l'altro in lotta fra loro, l'Islam occupava anche gran parte della Spagna, tutta l'Africa settentrionale, queste guerre che oggi ci sono o ci sembrano molto familiari le cosiddette crociate, in realtà sono spedizioni militari che cominciano verso la fine del secolo XI, durante queste guerre non è che il resto della vita si fermasse come succede oggi quando c'è una guerra, si continuava a commerciare, si continuava a trattare diplomaticamente, non c'era la dimensione della guerra totale, diciamo così, questo è importante perché quello che prevale nel secolo XII, ma si può dire un po' sempre nei rapporti tra il mondo cristiano e il mondo musulmano, è lo scambio, scambio di merci, scambio di uomini, scambio di idee, libri, libri che circolano, libri che vengono tradotti, grazie all'Islam noi abbiamo riconosciuto, conosciuto di nuovo la filosofia greca, la filosofia greca ci è stata portata attraverso traduzioni dall'arabo o dall'ebraico, soprattutto operate in Spagna, quindi in Spagna mentre si facevano delle guerre, che poi anche lì erano guerre fatte sulle linee dei grandi pellegrinaggi, pellegrinaggio a Gerusalemme, crociata per conquistare Gerusalemme, pellegrinaggio verso la Galizia, il santuario di Santiago di Compostela e guerre, quelle che nella storiografia spagnola si chiamano la riconquista, la riconquista contro il mondo musulmano, però con questo mondo musulmano c'erano anche buoni rapporti, rapporti positivi, rapporti diplomatici, rapporti economici, moltissimi rapporti economici e poi naturalmente anche e soprattutto rapporti culturali. L'università per esempio è costruita sulla base di un modello musulmano, perché non è propriamente semplicemente una scuola, già i greci e i romani avevano le scuole, spesso le scuole private aristocratiche in cui degli schiavi colti insegnavano a bambini di illustre famiglia. No, l'università più che una scuola assomiglia a una corporazione professionale o a un mercato se preferite, chissà, si espone al pubblico, va in piazza o va in un mercato di solito coperto, nel mondo musulmano coperto perché c'è troppo caldo, da noi coperto perché magari c'è freddo, comunque si va sotto una loggia e si proclama che si mette in vendita la nostra sapienza. Arrivano coloro che vogliono comprare la sapienza, pagano l'insegnante ed è così che nasce l'università, come una corporazione professionale. Ed è un'idea che è venuta geniale, che è venuta a un califfo di Bagdad dell'undicesimo secolo, il quale ha capito che la cultura poteva essere una merce richiesta, c'era evidentemente una richiesta di cultura, c'era una domanda di cultura e quindi si crea anche un'offerta. Questo è il dodicesimo secolo, quindi è proprio il grande secolo della rinascita dell'Occidente, tanto è vero che alla fine del dodicesimo secolo noi abbiamo la nascita quasi in contemporanea di due grandi protagonisti della nostra storia e non solo storia medievale, Francesco D'Assisi che nasce nel 1181-82 e Federico II, il nipote di Federico I, il Barbarossa, che nasce nel 1194 e sono come sapete due personaggi chiavi del 200, ma sotto certi aspetti anche due personaggi chiave di tutto il mondo moderno in fondo, ecco nel dodicesimo secolo ci sono le radici profonde della modernità. Alla fine dell'undicesimo secolo prende vita un duro scontro tra l'impero e la chiesa, passato alla storia come la lotta per le investiture. Il motivo dominante è la nomina dei Vescovi, la cosiddetta investitura episcopale, il cui diritto è conteso tra il Papa e l'imperatore, da tempo in conflitto per il primato politico. Le radici del contrasto sono antiche e risalgono a Carlo Magno, che già interveniva nella disegnazione di Vescovi e Abati, così come nella scelta del Pontefice. Nella seconda metà dell'undicesimo secolo i papi Nicolò II e Gregorio VII compiono una grande riforma della chiesa, che ha come scopo rafforzare l'autorità del Pontefice. Secondo le nuove disposizioni, tutto ciò che riguarda l'ambito religioso è sotto il controllo assoluto del Papa, definito la massima autorità spirituale e, come tale, superiore a qualsiasi potere temporale. Nel celebre Dictatus Pape, Gregorio VII giunge ad affermare la supremazia universale del Pontefice, che può persino destituire l'imperatore tramite la scomunica. La riforma ecclesiastica provoca la ferma reazione dell'imperatore tedesco Enrico IV, che dichiara deposto Papa Gregorio VII. La lotta per le investiture diventa una vera guerra quando il Papa a sua volta scomunica Enrico IV, dando il via a una serie di ribellioni verso l'imperatore da parte dei nobili tedeschi, che non riconoscono più l'autorità di un sovrano scomunicato. Per riportare la pace, l'imperatore dovrà chiedere perdono al pontefice con un atto di umiliante sottomissione. Resterà tre giorni in ginocchio all'esterno delle mura del castello di Canossa, in attesa dell'arrivo di Gregorio VII. Il conflitto, però, non si arresta. Solo alcuni decenni più tardi, nel 1122, si perviene a un accordo, il cosiddetto Concordato di Worms, che esclude l'ingerenza dell'imperatore nelle questioni della Chiesa, a partire dall'investitura dei Vescovi. Il Concordato di Worms non mette la parola fine alle ostilità tra Chiesa e Impero, che si acuiranno nel corso del XII secolo e che avranno come protagonisti Federico Barbarossa e Innocenzo III. La Chiesa ha fatto una grande riorganizzazione totale, ha cessato di essere una realtà in cui più o meno ogni diocesi, quindi ogni vescovo, era il capo abbastanza indiscusso delle Chiese che gli erano soggette e il Vescovo di Roma progressivamente si è impadronito dell'organizzazione della Chiesa e ha creato quella realtà piramidale, se volete, che noi siamo abituati a riconoscere alla Chiesa Cattolica. Ecco, questa realtà nasce proprio nel corso dell'XI secolo e nasce anche da un braccio di ferro tra il potere sacerdotale, rappresentato dal Vescovo di Roma, cioè da quello che di solito si chiama il Papa, e il potere civile a cui capo, a cui vertice c'è l'imperatore. Già nel corso dell'XI secolo c'erano stati scontri fra questi due grandi poteri, nel XII secolo lo scontro continua e allo scontro si aggiunge anche il fatto che la Chiesa è fatta di credenti e ci sono alcuni credenti, soprattutto alla base, che non sono soddisfatti di come la Chiesa si è evoluta. La Chiesa è diventata un grande organismo politico, una grande organizzazione culturale, una grande organizzazione economica e finanziaria. Questo non piace a molti che preferirebbero un ritorno alla semplicità del Vangelo, quindi come vedete questi temi sono ricorrenti nella storia del cristianesimo. E queste persone si organizzano anche in un certo senso in modo dialettico contro la gerarchia della Chiesa. La gerarchia della Chiesa risponde con sistemi e con metodi che possono essere accattivanti, la predicazione eccetera, ma anche repressivi. Il XII secolo è anche il secolo che vede l'inizio dell'inquisizione. Prima l'inquisizione soltanto vescovile, verso la fine del XII secolo un grande papa, Innocenzo III, fonderà l'inquisizione pontificia, il cui scopo è mantenere i credenti nell'alveo dell'ortodossia, indurli o obbligarli a restare fedeli ai dogmi e alla disciplina nella Chiesa. Ovviamente tutto questo ha un costo, ha un costo anche in termini sociali e politici. E questo costo è una tensione che spesso sfocia in vere e proprie guerre. Nel XII secolo noi conosciamo queste guerre che sono guerre fra il papa e l'imperatore per il predominio sulla cristianità. Quindi guerra tra poteri religiosi e poteri civili. Alcuni poteri religiosi si affiancano però anche al potere civile e alcuni poteri civili si affiancano invece al potere religioso. Quindi siamo in una situazione in cui tanto in Germania quanto in Italia la guerra tra il papa e l'imperatore diventa una sorta di guerra civile. Tutto questo naturalmente va collegato con qualche cosa che c'è già a monte nella storia tedesca della prima metà del XII secolo che è la tensione, anzi la lotta, tra alcune grandi famiglie principesche per impadronirsi del titolo imperiale. La lotta tra il papato e l'impero è anche conosciuta come il conflitto tra le fazioni dei guelfi, fautori del pontefice e dei ghibellini, schierati con l'imperatore. In origine però i termini guelfo e ghibellino non riguardano questo conflitto ma alludono a una guerra dinastica che percorre la Germania del XII secolo. Le due parole derivano infatti da due vocaboli tedeschi, Welfen, da cui guelfo, e Weiblingen, da cui ghibellino, che indicano rispettivamente una famiglia e un luogo. La famiglia è quella dei Welfen, il nobile e antico casato dei duchi di Baviera. Il luogo è il castello di Weiblingen, ai confini con la Svizzera, appartenente ai duchi di Svevia, da cui discende Federico Barbarossa. Sono proprio i duchi di Baviera e quelli di Svevia i protagonisti della lunga lotta per ottenere il titolo imperiale, che si apre nel 1125 con la scomparsa del sovrano Enrico V, morto senza lasciare eredi legittimi. Secondo la tradizione, i due nomi vengono usati per la prima volta nel 1140, quando risuonano come grido di battaglia dei due schieramenti avversari. Conclusa la guerra, l'impiego dei termini guelfo e ghibellino non si esaurisce. Il loro significato si ampia e passa a indicare i sostenitori del Papa e quelli del Barbarossa. Nel secolo successivo, il contrasto tra il potere religioso e quello imperiale si intensifica, soprattutto in Italia, dove si intreccia con le lotte per il controllo dei maggiori comuni. Le fazioni in lotta, nel tentativo di prevalere sui loro concorrenti, si schierano con l'una e l'altra parte in maniera spesso strumentale. In questo contesto, il significato dei termini guelfo e ghibellino muta ancora, giungendo a indicare i gruppi nemici che si contendono leggemonia locale. Da allora, l'accezione dei due vocaboli si allargerà sempre più e nel linguaggio comune diventeranno il simbolo della rivalità insanabile tra correnti opposte. Che il Medioevo sia dominato dalla lotta fra la Chiesa e l'Impero, lo sanno tutti, i ragazzi lo imparano già dalla scuola media inferiore. Che cosa vuol dire diventare imperatori in quel tempo? C'era stata una grande riforma che porta il nome di un sovrano del X secolo, il re Ottone I della casa di Sassonia, dei Lucchi di Sassonia, il quale Ottone I aveva riorganizzato tutta la compagine delle corone dell'Europa centrale. Esistevano tre regni distinti, un regno di Germania, un regno di Italia e un regno di Borgogna. Ognuna di queste tre corone era collegata, cioè se si diventava re di Germania, si diventava anche re dei Romani, il che voleva dire che il re di Germania in quanto tale era candidato alla corona imperiale. Quindi tre regni distinti ma collegati fra loro. Chi diventava re di Germania aveva diritto a queste tre corone e anche alla corona imperiale. Si diventava re sulla base elettiva, era l'aristocrazia, erano i grandi aristocratici germanici che sceglievano il re. Il re poteva diventare imperatore ma a patto di andare a Roma a prendere la corona dalle mani del Papa. Se il re non va a Roma prendere la corona, resta re dei Romani, imperatore eletto ma non consacrato. E questo spiega perché gli imperatori romani o germanici del Medioevo avevano questa voglia di fare questo pellegrinaggio a Roma. Perché soltanto facendo questa specie di pellegrinaggio, che era anche un cammino trionfale per certi versi, potevano acquisire completamente, pienamente il titolo imperiale. E tutto questo è proprio quello che farà Federico I. Il giovane Federico è in una posizione di vantaggio. Nasce verso il 1120 e assiste da giovane a una lotta feroce tra due rami di quella che era la sua famiglia. Perché, come sapete, quando ci sono famiglie rivali, si combattono fra loro ma spesso cercano di risolvere le loro controverse in un modo diverso da quello che è la guerra. E di solito fanno questo attraverso dei matrimoni. Quindi Federico nasce come il frutto dell'incontro fra due famiglie imparentate ma rivali. La famiglia dei duchi di Svevia, degli Hoenstaufen, e la famiglia dei Wittesbach, dei duchi di Baviera. Corrado III, re di Germania, appartenente alla famiglia degli Svevi, degli Hoenstaufen, ha un fratello che si chiama Federico anche lui, che è un personaggio storico minore, se non ha sposato Giuditta di Baviera e dalle loro nozze è nato Federico I Barbarossa. Ovviamente l'impero continua a essere elettivo, quindi Federico quando diventa maggiorenne, questo nel XII secolo succedeva verso i 15-16 anni, eredita i suoi bravi titoli ducali, ma non eredita il titolo regale, perché il titolo regale deve essere il frutto di una elezione. Però naturalmente riuscirà a spuntarla e a farsi eleggere, anche perché nonostante la sua giovanità molto brillantemente assolverà il suo ufficio di Duca di Svevia. Durante questo periodo il giovane Federico trova anche il tempo di andare nella crociata. Parte nel 1147, per quella che noi conosciamo come la seconda crociata, insieme con lo zio Corrado III, questa è una crociata famosa perché Dante nel XV del Paradiso d'Iraq e anche un suo avo, Cacciaguita, era stato proprio a questa crociata con Corrado III. Lui come crociato ha fatto voti di pellegrinaggio, perché la crociata è un pellegrinaggio, un pellegrinaggio armato, ma è un pellegrinaggio. Al ricordo del pellegrinaggio si porterà la barba, perché nel XII secolo ordinariamente era difficile portare la barba. I romani lo facevano quando andavano in campagna militare. Gli imperatori romani, che sono noti per la loro barba fluente, portavano la barba proprio a indicare il loro abituale essere in campagna militare. Anche nel XII secolo torna questa caratteristica tipica del mondo romano. Federico infatti era famoso per la sua barba rossa, intanto perché era una barba, non si usava granché. Tra l'altro nel XII secolo era famoso un imperatore barbuto ed era il barba di rame, barba rossa anche lui, ed era il grande persecutore dei cristiani, Nerone. Quando Federico I viene a sapere che gli italiani lo chiamano il barba rossa, ed evidentemente con riferimento a Nerone, per la crudeltà di Nerone, lui se ne vanta, lui assume questo titolo barba rossa, in italiano, e sarà chiamato ancora oggi dalla storiografia tedesca barba rossa, in italiano non Rothbart, ma proprio barba rossa. Ora, il giovane barba rossa, quando aveva ancora una barba molto corta, torna dalla seconda crociata e dopo pochi anni viene eletto re di Germania, in quanto re di Germania lui sa che deve andare a Roma a prendere la corona imperiale, ed è quello che farà nel 1152. Ma Federico verba rossa farà qualche cosa di più come imperatore, non si limiterà a scendere a Roma e assumere la corona imperiale, ma farà una vera e propria rivoluzione istituzionale. Quindi tra gli anni 50 e gli anni 70 del XII secolo, Federico I, re di Germania e poi imperatore, farà una serie di discese in Italia, se ne calcolano sei, sono un po' le bestie nere degli studenti liceali. Non è importante ricordare una per una queste discese di Federico I, perché discendeva così spesso in Italia? Perché l'Italia è molto turbolenta, ma è una turbolenza interessante, non è la turbolenza della crisi, o meglio certamente ci sono delle crisi politiche alla base di questa turbolenza, ma sono delle crisi di crescita. Sono crisi determinate da lotte fra città che stanno cercando di soverchiarsi a vicenda, perché la posta in gioco è il prevalere, l'egemonia di carattere economico-sociale. E quindi naturalmente agli imperatori di Germania che invece avevano città che ancora erano molto più quiete, anche perché erano molto più povere, molto arretrate se volete, soprattutto prive di questo grande elemento che nel XII secolo era già un ceto mercantile cittadino, nel XII secolo l'Italia è veramente al centro dei ricchissimi mercati, delle merci che vengono dall'Oriente e che poi prendono la via dell'Europa occidentale. Quindi l'Italia è importante per gli imperatori germanici del XII secolo. Federico, diventato re di Germania verso il 1150, deve andare a prendersi la corona a Roma e per prendersi la corona a Roma deve attraversare le Alpi e tutto il regno d'Italia che arriva poco a sud di Roma, perché poco a sud di Roma comincia il regno normanno del sud che non ha rapporti di sudditanza o di alleanza. Durante la prima discesa, 1150-1152, il giovane Federico, è più o meno un trentenne, forse qualche cosa di meno, entra in contatto con due grandi realtà e si rende conto che bisogna impari a dominare queste realtà. Uno è la gerarchia ecclesiastica con a capo il Vescovo di Roma, il Papa. Federico imparerà quasi subito che con il Papa o ci si mette d'accordo o si entra in conflitto. Se si entra in conflitto però il conflitto può essere pericoloso, perché il Pontefice ha un grande ascendente anche per esempio sulle grandi città italiane, su quella che oggi chiameremmo la società civile italiana, proprio in quanto capo della Chiesa. Poi c'è il rapporto con le città italiane. Le città italiane erano già abituate ad essere governate da sovrani germanici e in generale andavano abbastanza d'accordo con questi sovrani germanici su un principio molto semplice, quello dell'appalto economico e fiscale. Cioè in pratica il Regno d'Italia, la cui corona aspettava al re di Germania per la riforma dell'imperatore Ottone del X secolo, il Regno d'Italia in quanto Regno ha delle prerogative, prerogative che sono prerogative di diritto pubblico. Per esempio l'impero si attribuisce il diritto che non viene mai contestato di gravare di certe tasse certe attività, come per esempio il passaggio dei fiumi, dei guadi, dei confini, i diritti di aprire mercati, eccetera. Tutti questi diritti pubblici, che sono una vecchia eredità del diritto romano, si traduce in una tasse, in una serie di tasse più o meno forti che gravano su questi luoghi. Tutto questo si chiama, con un nome solo, latino, molto semplice, i regalia. I regalia, neutro plurale, vuol dire le cose che appartengono al rex, che sono quindi cose regali. La parola regalo in italiano viene proprio fuori da questo termine, il regale in quanto pertinenza del sovrano. Naturalmente lo scivolamento semantico è evidente. Dal punto di vista dei governati, queste masse, queste somme di denaro, che erano oggetto di esazione da parte del diritto pubblico, erano considerate una sorta di ruberia legalizzata, quindi si pensava che in fondo ubbidire a questo tipo di imposizione era come fare un dono alla corona, fare un dono al sovrano. Ecco perché la parola regale, neutro latino, sottinteso ius, regale ius, diritto regio, diventa il termine che noi conosciamo volgarmente, diventa la parola regalo. I regalia però erano tutt'altro che regali. Il meccanismo è questo, la corona ha certi diritti, soprattutto fiscali, li offre a singoli poteri subordinati, per esempio comunità intere, i comuni appunto. Questi poteri acquistano questi diritti, li appaltano se volete, perché non si vende il diritto, il diritto rimane di proprietà dell'impero evidentemente, ma si vende l'usufrutto, quindi i comuni pagano un appalto e in cambio ricevono il diritto per esempio di esercitare l'esazione ai posti di confine, ai ponti, tutti questi sono i regalia. Col tempo cosa succede? Succede che il meccanismo creato nell'XI secolo, attraverso il quale le singole comunità riscattano i diritti del re, pagano una certa cifra e in cambio, quindi una forma di appalto, si incamerano i risultati economici di questi diritti, col tempo naturalmente la moneta si svaluta, il diritto regale viene pagato sempre meno, i comuni guadagnano e le casse del sovrano restano sempre più vuote e allora progressivamente bisogna riaggiustare questo rapporto. Federico però non si accontenta di questo, lui convoca in una grande dieta, cioè in una grande assemblea vicino a Roncaglia sul Po, convoca tutti i messi dei comuni italiani del centro nord e annunzia che vuole rientrare in possesso direttamente dei regalia, perché le cifre che i comuni pagano non sono più adeguate, quindi l'impero a questo punto vuole riassumersi il diritto di esazione diretta, però c'è di più, il problema non è economico, è questo che sfugge a chi cerca di spiegare questo meccanismo soltanto dal punto di vista del guadagno dei comuni o del guadagno dell'imperatore, c'è un elemento di sovranità politica, un elemento giurisdizionale, l'imperatore non vuole cedere questi diritti al comuni non perché abbia paura che i comuni ci guadagnino più di lui, questo lo interessa, ma lo interessa meno di quanto noi potremmo pensare, ma semplicemente perché vuole rientrare in possesso di diritti pubblici e da dove gli è venuta questa idea? Gli è venuta dal fatto che nel frattempo l'Occidente ha riscoperto il diritto romano, ha riscoperto il codice di Giustiniano e la grande innovazione rivoluzionaria di Federico Barbarossa non è tanto quello di avere tentato di mercanteggiare di nuovo sulla compravendita dei diritti regali, non è affatto questo, ma è l'idea di voler passare da una monarchia feudale che si adatta a questo tipo di transazioni a una monarchia che è in fondo l'antica monarchia romana, ma era in disuso e quindi il passaggio diventava qualcosa di modernissimo dal punto di vista della gestione del governo. La cosa paradossale se volete è questa, che l'imperatore dichiara di voler tornare al diritto di Giustiniano, per l'imperatore il diritto di Giustiniano, Giustiniano è un personaggio come tutti sanno del VI secolo d.C., per l'imperatore questo è una restaurazione, si tratta di restaurare il diritto imperiale liberandolo dalle superfettazioni feudali. Per i comuni invece è una novità inaudita, i comuni protestano perché hanno sempre pagato questi diritti regali, hanno sempre pagato ai predecessori di Federico l'uso di questi diritti. Per loro questa imposizione è una novità intollerabile, è una innovazione. Quindi la nostra idea diffusa di un impero reazionario che vuole imporre la sua legge a comuni che invece sono il domani, sono, se volete un termine corrente, progressivi, è un'idea che va quasi rovesciata. I comuni del XII secolo non sentono l'imposizione imperiale come una vecchia tradizione reazionaria, al contrario, la sentono come un'innovazione illecita, qualcosa che non si era mai sentito, perché vuole riappropriarsi dei diritti, dei ponti, dei mercati, dei luoghi di confine, dei diritti di passaggio di merci, di uomini, etc. Nessuno l'ha mai fatto prima di lui. È una pessima novità, come si diceva nel linguaggio del XII secolo. La lotta fra comuni e Federico è una lotta per la restaurazione del diritto imperiale che però i comuni, che del diritto imperiale non si ricordano più, infatti non a caso il codice continente del diritto imperiale veniva da Costantinopoli ed era arrivato a Venezia in maniera molto avventurosa e Federico lo fa studiare dai suoi protetti che sono i giuristi dell'Università di Bologna. Quindi Federico, per le sue ragioni di carattere politico, di carattere fiscale, è anche il fondatore della cultura, uno dei fondatori della cultura universitaria del XII secolo, soprattutto della cultura giuridica. L'incremento demografico dell'anno 1000 porta alla formazione di nuovi centri urbani e alla rinascita di quelli esistenti. All'interno delle mura abitano uomini di estrazione sociale molto diversa, che vivono grazie all'esercizio di arti e mestieri. La città torna ad essere, come nell'antichità, il centro propulsore della società civile. Le città cominciano a svilupparsi come organismi autonomi, ponendo sotto il proprio controllo le campagne circostanti. Questi nuovi organismi politici prendono il nome di comuni e consistono in vere e proprie città-stato. Dapprima i comuni rivendicano l'esercizio di alcune funzioni pubbliche, come amministrare la giustizia o battere moneta, quindi, approfittando della debolezza dell'autorità imperiale, danno vita a proprie leggi e istituzioni. Il governo è affidato a un'assemblea formata dai cittadini e a un consiglio di consoli che, sul modello dell'antica Roma, dura in carica un anno. I consoli sono scelti tra gli esponenti delle più importanti famiglie aristocratiche della città, ma con il passare del tempo anche i ceti emergenti, in particolare mercanti e artigiani, potranno accedere alla carica. Nel corso del XII secolo, aspri conflitti sociali tra nobili e borghesi e tra famiglie rivali determinano una forte instabilità politica, a cui si farà fronte introducendo una nuova figura che va a sostituire i consoli. È il Podestà, un funzionario forestiero super partes, che vigila sulle istituzioni e assicura un'equa applicazione delle leggi. Nel corso del 200, la struttura del comune entra in una profonda crisi, che porterà alla sua scomparsa. Singoli individui particolarmente influenti concentreranno il potere nelle proprie mani, instaurando un dominio territoriale che segnerà la nascita delle signorie. Il cammino del Barbarossa in Italia è un cammino che deve sempre fare i conti con i diritti dei comuni. I comuni sostengono che l'impero non ha diritto di appropriarsi di questi antichi diritti imperiali, per i quali però i comuni sostenevano di aver già pagato, mentre invece l'impero sostiene che questi diritti li rivuola indietro, in un certo senso per gestirli non più col sistema dell'appalto ceduto ai comuni, ma con un sistema diretto, gerarchico. Questo ovviamente crea uno scontro tra l'impero e le città, però non è uno scontro così simmetrico come potrebbe sembrare, perché le città sono in guerra fra loro e perché fra le città italiane ce ne sono alcune che hanno già una funzione, diciamo così fra virgolette, imperialistica nei confronti di altre. Per esempio la Lombardia è egemonizzata dal Comune di Milano e allora cosa succede? Succede che i comuni secondari vengono obbligati a fare gli interessi del Comune di Milano. Pavia, Cremona, Lodi, eccetera, non potranno più avere i loro liberi mercati, eccetera, perché il Comune di Milano tende praticamente ad accentrare i migliori affari su di sé e a obbligare i comuni vicini a pagare delle tasse o a pagare altre forme di contributi se vogliono continuare a essere liberi. E nel mondo medievale si è liberi non nella misura in cui nessuno ci sta al di sopra, c'è sempre qualcuno che sta al di sopra, a meno di non essere il Papa o l'Imperatore. Nel mondo medievale si è liberi nella misura in cui le autorità che ci stanno di sopra ci permettono una vita libera. Quindi i comuni non vogliono distruggere l'autorità imperiale, non ci pensano nemmeno, non saprebbero concepire un mondo senza autorità imperiale. Soffrono molto piuttosto l'egemonia delle città vicine e vogliono liberarsi da quella. Il principio è un principio politico notissimo, un qualsiasi padrone più lontano è meglio è, più vicino è e più pesantemente usa i suoi poteri. Il ragionamento delle città lombarde negli anni 50 è che in fondo meglio l'Imperatore che arriva in Italia periodicamente, riscuote i proventi delle sue leggi eccetera e poi torna in Germania, meglio l'Imperatore che è un sovrano alto ma lontano che Milano che invece è un sovrano tecnicamente un po' più in basso ma molto vicino e sempre con le mani pronte. Naturalmente però il problema è che Federico fa alcuni errori, si vedono già durante la prima campagna d'Italia, quella che lo porta a Roma per l'incoronazione imperiale. Federico è un temperamento senza dubbio molto autoritario, anche collerico, esercita il suo potere con durezza e quindi naturalmente molte città passato il primo momento di soddisfazione preferiscono tornare a un regime di lotta fra le città piuttosto che di lotta contro questo nuovo potere difficile da gestire come potere imperiale. Quindi nelle successive discese Federico scenderà sempre in Italia per riorganizzare la sua grande realtà statuale che in un modo o nell'altro sarà continuamente compromessa soprattutto dall'autorità di Milano, dalla forza di Milano. Cosa fa Milano? E cosa fanno le città che sono alleate di Milano o subordinate di Milano? Guardano anche al potere della Chiesa. Il potere della Chiesa fino al 1160 resta in mano di prelati che sono favorevoli all'impero, prelati che sono più o meno contrari al nuovo corso assunto dall'impero, ma nulla di particolarmente destabilizzante. Nel 1160 succede invece una cosa grave per la Chiesa, cave nelle mani di un Papa particolare, un senese, il Cardinal Bandinelli, il quale assume il titolo di Alessandro III e immediatamente fa capire che i poteri assoluti dell'impero non possono essere in linea con la politica della Chiesa, che la Chiesa desidera in qualche modo gestire anche, sia pure indirettamente, il potere imperiale, che l'imperatore deve funzionare come un funzionario, in un certo senso, subordinato della Chiesa. Federico non accetta questa imposizione, provoca uno scisma, cioè una divisione nel Sacro Collegio, un gruppo di cardinali scismatici nominano un nuovo Papa, che sarà un antipapa, poi nomineranno un altro ancora, eccetera, e quella che era la tensione tra il Papa e l'imperatore e i comuni, quindi una tensione triangolare, diventa una vera e propria guerra civile. Alcuni comuni si schierano a fianco del Papa contro l'imperatore e alcuni comuni, magari minori, che si schierano al fianco dell'imperatore perché vogliono scalzare il potere dei comuni più forti, soprattutto essenzialmente di Milano. Questo tipo di atteggiamento in un primo tempo porta a una netta vittoria dell'imperatore. L'imperatore riesce a pacificare quasi tutte le città del Regno d'Italia e a metterci i suoi funzionari, ma i suoi funzionari a sua volta non sempre sono funzionari particolarmente corretti, spesso sono al contrario, corrotti oppure sono incompetenti. Questo naturalmente aumenta la volontà di reagire da parte dei comuni. I comuni si riuniscono, si riuniscono in leghe, le varie leghe a un certo punto confuiranno nella cosiddetta Lega Lombarda, anche se non tutte le città saranno della Lombardia attuale, ce ne saranno anche del Veneto attuale, del Piemonte attuale o dell'Emilia attuale e la Lega Lombarda combatte contro Federico con l'appoggio del Papa. Il Papa a un certo punto arriva a scomunicare l'imperatore e questo elemento pesa moltissimo anche sull'atteggiamento dei poteri cittadini nei confronti dell'imperatore. Nel frattempo Federico è impegnato a piegare i comuni maggiori che gli oppongono resistenza ed ha ancora, si può dire, la fortuna di avere dalla sua parte non solo gran parte della nobiltà tedesca, ma anche molti comuni italiani, soprattutto comuni dell'Italia settentrionale. Però ha già qualche difficoltà. Quindi Federico a questo punto fa una scelta senza dubbio pericolosa perché pensando che il centro del suo potere è l'Italia che è il paese più ricco dell'impero, non solo per problemi agricoli, soprattutto l'agricoltura resta senza dubbio l'elemento centrale, l'elemento principale è l'economia del XII secolo, però c'è questo elemento nuovo, i commerci e quindi la moneta, il denaro. Federico capisce che quindi il centro del suo potere sarà l'Italia, anche perché l'Italia è la porta verso l'Oriente. Davanti a Federico si spalanca la possibilità, che lui cullerà a lungo, di diventare anche il re dell'Italia meridionale. Per far questo bisognerebbe strappare la corona ai re normanni e non è facile, tanto più che il re normanno immediatamente, Muglielmo I si avvicina al Papa e quindi il nuovo Papa, Papa Alessandro III, si guadagna immediatamente un possibile avversario di Federico Barbarossa e lo fa suo alleato, non solo, ma il Papa e il re di Sicilia, il re normanno di Sicilia alleati e alleati quindi anche con la monarchia inglese che è legata da vincoli parentela alla monarchia sassone, quindi al cugino di Federico. Tutti e tre questi poteri si accordano con il re di Francia e si accordano anche con l'imperatore di Bisanzio, il cosiddetto Basileus, si usava la parola greca per re per indicare però quello che era il successore degli imperatori. E a questo punto Federico comincia a capire che contro di lui si sta organizzando una grande coalizione internazionale che passa attraverso il Papa, il re normanno di Sicilia, arriva fino a interessare il re di Inghilterra, che in quel momento è Enrico II, e il re di Francia, che in quel momento è Luigi VII. È una coalizione formidabile, Federico si rende conto di dover impedire che scenda in campo contro di lui. Il suo punto di forza sono la fedeltà di alcuni grandi feudatari tedeschi e la fedeltà di alcune grandi città italiane, ma non grandissime. Milano, per esempio, è la capofila delle città che si ribellano all'autorità di Federico, perché l'autorità di Federico li obbliga a fare sacrifici economici enormi per restituire all'imperatore i regali ai suoi diritti. Allora l'imperatore capisce che deve distruggere Milano, distruggerla anche fisicamente, quindi conquistarla, non accettare compromessi, raverla al suolo, farla sparire dalla faccia della terra, ed è quello che lui farà nel 1162, quando veramente distrugge la città, caccia i cittadini, lascia in piedi soltanto le chiese, ma smantella la città, quindi elimina le mura e a quel punto questo 1162 potrebbe sembrare il momento della gloria e del potere massimo dell'impero. Vedremo che non è proprio così. C'è un quinquennio, c'è un lustro intero, si può dire, che è quello dell'apparente egemonia incontrastata di Federico, è proprio quello del trionfo di Federico, nel quale naturalmente noi vediamo anche le linee delle crepe, insomma, di questo potere, ma sul momento queste crepe non erano troppo visibili. Fra 1160 e 1165 si può dire quello è il momento migliore, è il momento in cui Federico prende di mira principalmente questo nuovo potere pontificio, sembra riuscire a ridimensionarlo, combatte e vince più volte anche le milizie pontificie e addirittura distrugge fisicamente e tecnicamente Milano nel 1162. Però questa sua vittoria diventa il segnale che il suo potere comincia a diventare ingombrante e molti si preoccupano, si preoccupano anche fuori dell'Italia. Federico ha delle pretese che sono quelle portate avanti dai suoi giuristi, i giuristi di Bologna che erano diventati i suoi consiglieri, a delle pretese che fanno paura agli altri sovrani europei. Lo ritiene che alla alla luce del diritto romano, tutti i sovrani europei altro non siano se non che dei vassalli dell'imperatore. Quindi Federico ha un modo anche molto duro di presentarli, li fa chiamare reguli provincialum, piccoli re di province. L'imperatore è appunto il re dei re e il re d'Inghilterra, re di Francia, i due re di Castiglia e d'Aragona, altri re minori dell'Europa, in questa visione del Federico politicamente maturo diventano re subordinati al re dei re, cioè all'imperatore. Sicuramente è una visione che gli altri sovrani non vogliono accettare, che non vogliono comunque che da un profilo puramente teorico e formale diventi un elemento invece concreto di vera egemonia. Le idee dell'imperatore si chiariscono anche con dei gesti delle scelte di carattere simbolico. La più vistosa probabilmente di tutte queste scelte è la canonizzazione dei Re Magi. I Re Magi sono figure che emergono soltanto nel Vangelo di Matteo, sono figure di sovrani che in realtà sono piuttosto dei sacerdoti, dei sacerdoti e dei, se volete anche dei ciarlatani, d'origine persiana masdaica, i quali, secondo il testo di Matteo, sono accorsi alla nascita di Gesù e gli hanno reso omaggio. Sulla base di quest'idea si elabora un culto dei Magi che diventa un culto civile. I Magi come segno dei Dei Re subordinati che, essendo giusti, riconoscono la legittimità del potere del re subordinante. Quindi i re del tempo del Barbarossa stanno al Barbarossa come i re del passato stavano agli antichi imperatori. I Magi sono appunto il simbolo di tutto quest'ordine perché sono i tre re, infatti nasce da allora il culto dei Magi anche come re e non semplicemente come sacerdoti o come astrologi, i quali si sono subordinati al re delle, al gran re, riconoscendolo. E l'offerta, l'adorazione dei Magi diventa il momento centrale di questa teologia imperiale che Federico Barbarossa sostiene e che ha momenti molto forti. Addirittura nel 1164 Federico organizza un grande pellegrinaggio che è una vera e propria, in latino si dice traslazio, un vero e proprio trasferimento di reliquie da Milano dove c'erano le reliquie dei re Magi, ma Federico argomenta che siccome Milano è stata infedele all'imperatore, Milano non ha il diritto, non è degna di conservare i corpi dei re Magi. E allora i corpi dei re Magi sono presi dall'arci cancelliere dell'impero, dal primo ministro di Federico, che è anche vescovo, vescovo di Colonia, Rinaldo di Dassel, vescovo di Colonia, il quale porta i corpi dei Magi nella sua cattedrale. E da allora in poi la cattedrale di Colonia diventerà il sepolcro dei Magi e quindi una chiesa per eccellenza dedicata al potere imperiale. Ma non basta ancora, perché Federico vuole sacralizzare non solo se stesso, ma la funzione imperiale in quanto tale. e allora ricorre a un'altra idea a modo suo geniale, che però gli procura ancora più nemici, quella della canonizzazione di Carlo Magno. Cioè l'imperatore Carlo, sentito come il patrocinatore dell'impero in quanto tale, il fondatore dell'impero medievale, una volta finito quello romano, Carlo viene canonizzato nel 1165. La chiesa di Federico, che è una chiesa scismatica, composta però da alcuni cardinali, alcuni vescovi e arcivescovi, santifica Carlo Magno. E la tomba di Carlo Magno nel Duomo d'Aquisgrana diventa un centro di pellegrinaggio e di sacralità. di un imperatore che è anche santo. Naturalmente il resto della chiesa, guidato dal papa che viene considerato il papa legittimo, Alessandro III non riconosce la santità di Carlo Magno. Questi gesti di Federico I allarmano tutta la cristianità. La cristianità comincia a chiedersi dove voglia arrivare quest'uomo che sta vestendo addirittura i panni di una sorta di sacerdote di una religione imperiale nuova. E allora papa, Alessandro III, spalleggiato dall'imperatore di Bisanzio e dal re di Francia Luigi VII comincia a organizzare una vera e propria resistenza contro l'imperatore che porterà naturalmente a un fiorire di lotte, di guerre. I comuni italiani abbandoneranno Federico ad uno ad uno, anche perché Federico ha fatto l'errore di mandare spesso come governatori a suo nome nelle città soggettate personaggi poco capaci oppure poco onesti. Quindi ci sono anche delle responsabilità di governo precise, Federico. Tutto questo porta tra 1167 e 1175-1176 alla costruzione sempre più ampia di una realtà politica e diplomatica che sarà la Liga Lombarda, che nel corso degli anni 60-70 si organizza al punto tale da riuscire a conseguire nel 1176 una vittoria schiacciante durante la battaglia di Legnano. E naturalmente con la battaglia di Legnano si avvia un momento di stasi, di stagnazione e di ripensamento forse efficace nella testimonianza dell'imperatore Federico. Nel 1174 Federico Barbarossa compie la sua quinta discesa in Italia. A capo di un imponente esercito di circa 10.000 soldati, l'imperatore varca le Alpi, intenzionato a porre fine alla guerra che lo vede contrapporsi alle forze che sostengono il Papa. Due anni più tardi, il 29 maggio del 1176, nelle campagne vicino a Milano, si combatte la battaglia decisiva tra i due schieramenti, la celebre battaglia di Legnano. Lo scontro vive fasi alterne, ma alla fine la coalizione papale, riunita nella Lega Lombarda, riesce a trionfare, ponendo un'argine ai disegni di egemonia sulla penisola da parte di Federico Barbarossa. Questo episodio viene riscoperto nel corso dell'Ottocento, quando diviene uno dei simboli della resistenza al dominio straniero. Un esempio della sua fortuna è il grande quadro realizzato nel 1860 da Amos Cassioli, che interpreta l'antico avvenimento come metafora delle lotte per l'indipendenza nazionale. Nel dipinto Federico Barbarossa è raffigurato a terra caduto da cavallo, ha un'espressione di disappunto e un aspetto feroce. È l'immagine dell'impero asburgico, nemico giurato degli italiani durante il risorgimento. Addirittura il suo profilo ricorda quello dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo, esponente di spicco della dinastia austriaca. Al centro della tela vi è il vero protagonista del quadro, il guerriero lombardo che indossa una cotta d'arme su cui compare il simbolo dei pirati. Anacronistico in questo contesto, ma molto efficace. Il simbolo è qui usato come emblema della compagnia della morte. Una brigata di cavalieri, il cui motto era vittoria o morte, in realtà mai esistiti, ma inventati in seguito per bilanciare l'immagine eroica del Barbarossa. Queste figure, come testimoniato nel dipinto di Cassioli, verranno poi riprese nell'Ottocento come antenati ideali dei combattenti risorgimentali. La battaglia di Legnano, dunque, ben rappresenta la visione ideologica del risorgimento e testimonia l'importanza simbolica che l'episodio riveste nell'Ottocento. Anche Mameli, nel canto degli italiani, divenuto poi l'inno nazionale, vi inserisce un riferimento. Dall'Alpi a Sicilia, dovunque è Legnano, in ricordo della vittoria del popolo italiano sugli invasori stranieri. A partire dal 1167 la situazione precipita e Federico tenta altre discese in Italia che non sempre gli vanno bene. A volte è costretto a tornarsene via abbastanza rapidamente, inseguito dagli avversari, dal clima cattivo, da alcuni altri rovesci, proprio anche di carattere di cattiva sorte, se volete. Le città una per una si allontanano da lui e scoprono di preferire in fondo l'egemonia di Milano all'egemonia imperiale, cioè abbandonano un atteggiamento precedente e assumono un atteggiamento completamente opposto. Si avvicinano alla città e gemono in Milano che viene immediatamente ricostruita, col beneplacito e anche con i fondi della Santa Sede, cioè di Papa Alessandro III. A questo punto naturalmente Federico pensa di dover usare le maniere forti, ma viene abbandonato anche dai principi tedeschi. è paradigmatico il rifiuto di Enrico il Leone, il duca di Sassonia, il quale dichiara di non voler aiutare Federico oltre un segno che è il segno stabilito dalla legge, quindi non c'è nessuna ribellione dei vassalli all'imperatore, c'è semplicemente un ricordare da parte dei vassalli che lo sforzo comune non può essere uno sforzo totalizzante. I vassalli dell'imperatore hanno il diritto di negargli appoggio dopo per esempio il quarantesimo giorno di guerra consecutiva all'interno di un paese solo. Il che vuol dire che Federico si trova a dover soggiogare le città italiane ma non avere i mezzi per farlo perché la nobiltà tedesca gli nega questi mezzi. Federico si trova a poter mettere in campo soltanto alcuni suoi residui alleati che sono presto detti, la città di Pavia, alcuni aristocratici dell'Appennino, soprattutto i Malaspina che governano tra la Liguria e la Toscana e niente di più. Nel 1176 Federico subisce una grande sconfitta, viene addirittura lasciato per morto sul campo di battaglia oppure sparisce secondo altre fonti da campo di battaglia, però in realtà non gli è successo nulla, riemerge dopo pochi giorni, sfrutta ancora il grandissimo ascendente che ha sulle città, le città hanno letteralmente paura di lui, però capisce che deve trattare. E allora lì abbiamo un colpo di genio politico, in due momenti diversi, prima con la pace sul lago di Costanza con i comuni, 1176 e poi la stessa pace con il papato, fatta attraverso una pacificazione abbastanza ritualizzata che poi culmina in una pace scenografica nella città di Venezia, Federico riesce a ricucire le sue alleanze, nel frattempo il suo antagonista Papa Alessandro III è morto, gli altri papi hanno una tempra molto più possibilista del defunto pontefice e quindi a quel punto Federico riesce a riconquistare con la diplomazia gran parte di quello che aveva perduto, perdendo la guerra. Questo praticamente è il capolavoro di Federico Barbarossa il quale sfrutta la sua sconfitta, cioè fa pace con i comuni, fa pace con il Papa ed esige che nel testo dei trattati di pace figuri il fatto che l'imperatore con un suo modo proprio, con un suo atto di volontà ha determinato la pacificazione. A questo punto naturalmente il mondo comunale italiano diventa un mondo che viene formalmente egemonizzato dall'imperatore. E questa è la grande vittoria di Federico, il quale nel frattempo è riuscito a isolare il cugino Enrico e il leone che morirà addirittura in esilio e che da allora diventa il prototipo del principe cristiano. E c'è un episodio, che è l'episodio finale, che fa vedere tragicamente quanto si è sentito questo suo ruolo. Nel 1189 parte la terza crociata che deve essere combattuta in terra santa. Federico I parte a cavallo dopo aver pronunziato i voti di pellegrinaggio, perché il crociato è un pellegrino e pronuncia voti di pellegrinaggio, e durante il viaggio muore, muore accidentalmente, muore cadendo in un fiume nel 1190, ma naturalmente la sua fine non è nemmeno mai veramente riduta. Tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo, dall'Europa cristiana partono diverse spedizioni militari contro i musulmani in terra santa, le crociate. Queste campagne vengono indette per liberare Gerusalemme dagli infedeli, ma hanno anche finalità politiche ed economiche. Esse sono infatti guerre di conquista della nobiltà europea, mirano ad arrestare l'espansionismo turco e a imporre il controllo sui commerci con il Medio Oriente. La prima crociata inizia nel 1096, dopo l'appello di Papa Urbano II ai principi cristiani affinché combattano i nemici della fede e liberino il santo sepolcro, in cambio della remissione di ogni peccato. Una prima spedizione si conclude con la sconfitta dei crociati a Nicea, nella penisola anatolica, a molti chilometri dalla meta. La seconda spedizione, invece, ottiene risultati migliori. Nel 1099 i crociati conquistano Gerusalemme, Siria e Palestina diventano un unico regno e i mercanti italiani si assicurano il controllo dei commerci nell'area. Tale equilibrio dura però pochi decenni. Nel 1146 la Palestina è di nuovo minacciata dai musulmani che conquistano l'importante città di Edessa in Asia minore. Il re di Francia e l'imperatore tedesco bandiscono la seconda crociata, che non ottiene alcun successo. Il sultano d'Egitto, il celebre Saladino, sbaraglia i crociati e occupa Gerusalemme. 40 anni più tardi, Papa Gregorio VIII promuove allora la terza crociata, che nonostante le adesioni dell'imperatore Federico Barbarossa e dei re di Francia ed Inghilterra, si conclude anch'essa con una sconfitta. A nulla varranno le crociate successive per tentare di riportare la città sacra sotto il dominio cristiano. Non solo Gerusalemme non passerà più in mano ai crociati, ma alla fine del XIII secolo anche gli ultimi possedimenti cristiani in terra santa saranno conquistati dai turchi. Federico muore dunque in crociata. Cos'è la crociata? La crociata è un pellegrinaggio armato, lo si compie sulla base di una promessa solenne, il pontefice emana una bolla di crociata, questa bolla di crociata impegna i singoli partenti su due piani, o partono direttamente e debbono combattere e sciogliere il loro voto alla fine del combattimento, oppure non partono fisicamente, ma danno una certa quantità di denaro alla causa della crociata perché al posto loro combattano altri. La parola crociata nasce soltanto nel secolo XIII per qualificare però una spedizione che non si faceva contro i musulmani per riprendere Gerusalemme, perché il fine della crociata è molto preciso, non si va in crociata per convertire i musulmani, non ci si pensa nemmeno, la crociata non è una guerra e religione, la crociata è una spedizione che ha come scopo la riconquista del Santo Sepolcro. Federico muore, muore martire, durante la crociata, muore secondo il diritto canonico come martire, come soldato di Cristo, muore nell'assorbimento di un voto e il suo corpo non viene riportato in Europa. Noi sappiamo che secondo l'usanza del tempo, lui muore nel 1190 cadendo nel fiume Kidnos, nel Göksu, nell'attuale Turchia meridionale, che è un fiumicello di montagna senza importanza, muore probabilmente di un infarto, di una crisi cardiaca, alla bella età di 70 anni, si è fatto tutta l'Europa a cavallo, quindi è comprensibile, il suo corpo viene trattato come venivano trattati i corpi dei crociati che morivano in battaglia. Il corpo si bolle, si lessa, si estraggono le ossa, la carne si seppellisce in un luogo, le ossa si seppelliscono in un altro luogo, l'interiore è importante, soprattutto il cuore e il cervello, vengono sepolti a parte. Federico ha tre sepolture, tutte in Asia minore, fra la Turchia e Antiochia, non ne conosciamo con certezza nemmeno una, perché le diverse fonti ci danno informazioni diverse circa il luogo nel quale Federico è stato sepolto. Certamente però i crociati tedeschi non si sono riportati in patria, probabilmente per esplicita volontà dell'imperatore che vuole rimanere nel luogo dove ha dato la vita, non si sono riportati il suo corpo. Questo darà luogo a tutta una mitologia che nel romanticismo tedesco troverà il suo acme, Federico in realtà non è mai morto, dorme, dorme in una caverna del monte Kiffhoiser in Turingia e si risveglierà alla fine dei tempi per guidare l'ultima crociata contro l'anticristo.